Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di Fano TV, sono le sette del mattino e siamo in diretta per, come di consueto, per leggere i giornali che tra poco vedremo e vi faremo vedere, con la lettura anche dei titoli, delle notizie più importanti dal Corriere Adriatico e dal resto del Carlino. Andiamo a vedere il santo di oggi, oggi la Beata Vergine del Monte Carmelo, la Madonna del Carmelo, il sole è sorto alle 5.40 e tramonterà alle 20.48. Vediamo il tempo, oggi avremo un cielo irregolarmente nuvoloso secondo la protezione civile delle Marche, soprattutto al mattino, poi avremo delle schiarite oggi sempre più ampie, già dalla mattinata, ad eccezione però delle zone interne, dove la nuvolosità andrà avanti anche nel pomeriggio. Avremo qualche debole rovescio sparso nella mattinata, soprattutto nell'entroterra e però anche occasionalmente lungo la costa, con fenomeni sempre più sporadici però nel corso della mattinata fino al completo esaurimento. Ora, tenendo conto che piove su tutto l'arco alpino, è difficile poter dire, anche perché la grafica non ci aiuta, dove eventualmente potrà sforare verso la costa questa precipitazione piovosa. Quindi, insomma, bisognerà vedere quello che ci manderà il Padre Eterno. Allora, oggi, abbiamo già visto, domani, mercoledì 17, secondo il bollettino della protezione civile delle Marche, avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature sono in aumento, i venti sono di brezza tesa. Per la giornata di giovedì, cielo sereno o poco nuvoloso, anche qui transito di velature, attività cumuliforme sui rilievi, avremo ancora temperature stazionarie oppure in diminuzione nei valori minimi. Dunque, la notte, in queste notti si sta dormendo, che è una bellezza, con questo frescolino, sarà ancora giovedì sera, giovedì notte, ancora con temperature in diminuzione, soprattutto quelle minime. Avremo tempo stabile, prevalentemente soleggiato, con deboli condizioni di stabilità nelle zone interne per la giornata di venerdì. Le temperature, per quanto riguarda la giornata di oggi, allora, vediamo le temperature massime previste per oggi. avremo la più alta ad Osimo, 27 gradi, sulla costa Pesaro-Fano 26 gradi, la più bassa verrà registrata a Pintura di Bolognola in montagna 15 gradi, anzi, a Monte Bove Sud avremo 10 gradi, questa oggi intorno alle 14. Allora, la notizia che è arrivata ieri sera, che poi ha fatto il giro anche dei giornali locali, così come dei social, il crollo in Piazza del Popolo a Pesaro di un telone, il telone che serviva per proiettare le immagini, un maxischermo, quelli che si usano solitamente nei concerti. Ieri ne è crollato uno in Piazza del Popolo, prima dell'inizio di un concerto, una donna si è ferita, è stata medicata, portata all'ospedale, non è un ferito grave, però, per fortuna, insomma, tanto è bastato per far ritardare il concerto di 45 minuti. Abbiamo le immagini, abbiamo tutto, il resto del Carlino pubblica in apertura questa notizia, paura, il concerto, telaio di uno schermo, cade e ferisce una spettatrice. Allora, andiamo a vedere le immagini che ci sono arrivate da Pesaro direttamente, questo è il telaio che dicevamo, questo telaio dove vengono proiettate solitamente le immagini, si trovano a bordo, di fianco, solitamente al palco, ai palchi. Questa era la gente in Piazza del Popolo, l'arrivo dei vigili del fuoco e ecco, il cellulare si sofferma di nuovo su questo telaio. I vigili del fuoco che ovviamente hanno analizzato, anche perché poi immagino ci sarà un risvolto anche amministrativo, non so, penale probabilmente, qualcuno farà qualche passo come di solito avviene, non so, forse anche da parte della ferita. Poi l'ambulanza del 118 che è arrivata, vedete anche qui altre immagini, il 118 e qualche fotografia con qualche fermo immagine in più che ci dà l'idea e il senso di quello che è accaduto. Vedete, questo è il telaio che è caduto e ha ferito al collo una donna. Altri momenti, altri scatti e la polizia ovviamente che ha raccolto testimonianze e quant'altro. Il Corriere Adriatico invece, la pagina dell'edizione di Pesaro, tutor sull'Adriatica come in A14, stangata per l'eccesso di velocità. È una proposta, una proposta emersa durante un incontro del Comitato per la Sicurezza in Prefettura e serve soprattutto per i furbetti del tachimetro, quelli a cui piace andare velocemente in auto anche in tratti che durante l'estate in particolar modo sulla Statale 16 diventano pericolosi. E su alcuni tratti di questa Statale 16 potrebbero arrivare appunto i tutor, quelli che ci sono in autostrada, gli impianti di controllo della velocità già in uso in A14, per esempio, ma in tutta la rete autostradale, che calcolano anche la velocità media di percorrenza di un veicolo. L'ipotesi emersa ieri, come dicevo, nel corso di un incontro in Prefettura sulla sicurezza stradale in vista dell'estate. Insomma, l'estate che ormai è abbondantemente avanzata. Lucarelli, l'assessore al turismo del Comune di Fano, è entusiasta per la Fano dei Cesari. Sono certo che cresceremo ancora. Polvere e adrenalina, lo show delle bighe per il gran finale della Fano dei Cesari. E poi ieri a Stacciola, centinaia di persone che hanno partecipato nella chiesa appunto della frazione di San Costanzo al funerale di Maurizio Livieri, bianchino di 48 anni, investito e ucciso mentre attraversava la strada venerdì mattina a Rosciano di Fano. La morte di Maurizio ha scosso profondamente la comunità dove tutti lo conoscevano e gli vonevano bene. Un corteo lunghissimo che ha seguito la bara fino al cimitero. La pagina di Fano del resto del Carlino si sofferma sul divieto di fumo in spiaggia. In realtà le cose sono cambiate. Ieri che ha seguito il nostro telegiornale abbiamo fatto qualche intervista ai bagnanti di Pesaro. Ieri infatti a Pesaro è stato il primo giorno di questo divieto. Fano inizierà il primo di agosto. Ieri un bagnante diceva che a Pesaro avrebbero dovuto fare come Fano perché Fano inizialmente si pensava che volesse vietare il fumo in tutta la spiaggia. In realtà il comune di Fano, l'assessore, i dirigenti hanno avuto delle pressioni da parte degli operatori balneari e dunque ha fatto una marcia indietro, un po' molti passi indietro e praticamente ha modificato il provvedimento. Il divieto di fumo sotto gli ombrelloni che sarebbe dovuto entrare in vigore appunto dal primo di agosto non si applicherà se gli stessi saranno dotati di portacenere o di contenitori per la raccolta dei mozziconi e se tra un ombrellone e l'altro ci sarà spazio sufficiente a garantire l'areazione e ad evitare il fumo passivo tra i vicini. Dice l'assessore all'ambiente Samuele Mascarin non vogliamo vietare il fumo in spiaggia ma evitare l'abbandono dei mozziconi in mare e negli arenili. Ma soprattutto, al di là di tutto, ma vogliamo pensare ancora, Benedetta, alla salute pensiamo al mozzicone per terra, pensiamo a quello ma tutto bene, tutti siamo d'accordo ma la cosa più importante è la salute non solo di chi ingerisce e mette dentro i polmoni questo veleno e a nulla serve il pacchetto con la gente che sta morendo in fotografia la scritta che provoca il tumore, il cancro, che muore se fumi non importa, la gente continua a fumare come se niente fosse ma soprattutto vogliamo parlare di quei bambini che stanno lì accanto ai genitori magari che fumano qualcuno addirittura fuma durante la gravidanza cioè proprio come se nulla fosse e questa la dice lunga ma questa non è la sede per parlarne Lauriga Faustus, eterno vincente, cambia casacca però è sempre migliore parliamo della Fano dei Cesari dopo il cinghiale offre adrenalina e gioia alla fazione del lupo spettacolare chiusura della Fano dei Cesari e poi dal resto del Carlino abbiamo una pagina, quella di Fano dedicata a due processi uno che si è concluso e l'altro che sta per iniziare le indagini sono avanti allora due notizie la prima è quella che riguarda l'arresto l'arresto di un gestore di un bar mentre ieri è voluto andare addirittura in carrozzina in tribunale ieri mattina per dire che suo figlio è innocente il papà di uno degli arrestati lui è il padre adottivo ex compagno della madre scrive il giornale di Iorghe Lopez Rivera che è il 26enne originario della Colombia che è il titolare del bar Badioli di Centinarola di Fano che gestisce insieme col fratello e che è stato arrestato la settimana scorsa dai carabinieri dopo che gli avevano trovato in casa quasi un chilo di marijuana il padre è voluto come dicevo andare in carrozzina in tribunale ieri mattina per dire che suo figlio è innocente che quel fumo è davvero per lui per lenire i dolori della malattia che lo sta consumando e quindi non è per fini illegali come lo spaccio e invece ha tirato un sospiro di sollievo ed è stato assolto per non aver commesso il fatto così come ha stabilito Paolo De Luca il giudice che è uscito dalla Camera di Consiglio e ha letto la sentenza ha tirato un sospiro di sollievo Fabrizio Rondina un 62enne di cartoceto che è stato arrestato il giorno della morte di un barista il 3 febbraio del 2017 Andrea Gramegna che era titolare del bar King di Sant'Orso a Fano che è morto davanti agli occhi del figlio di 6 anni dopo aver, insomma, per droga il 62enne è stato arrestato il giorno della morte proprio del barista aveva ceduto queste dosi di cocaina da alcuni suoi clienti e secondo l'accusa tra questi ci sarebbe stato anche Gramegna Elisabetta Rossi nel resoconto che fa questa mattina sul resto del giorno del Carlino scrive anche i particolari di questo processo sulla questione, sulla vicenda Ocean Conad i sindacalisti vedono nero ci sono in Bale oltre 200 posti di lavoro in città a Fano c'è un incontro in regione soprattutto per tutelare l'occupazione al tavolo ieri in regione hanno partecipato i sindacalisti di CGL Cislewil e gli assessori Bora e Bravi i marchi coinvolti sono quelli di Ocean, SMA, Simpli e anche quelli attuali della Conad ancora non si capisce a quale gruppo andrà l'iper, questo iper cittadino Ocean è un po' in difficoltà è una catena francese, abbiamo detto e insomma pare stia vendendo a Conad però non si capisce bene poi che fine faranno i suoi 170 dipendenti e tutti i punti vendita anche tutti i punti vendita con la sigla SMA per esempio che fanno sempre parte del grande gruppo della distribuzione francese di spalle invece qua abbiamo un intervento di Cesare Carnaroli sulla Fano dei Cesari è un po' perplesso Cesare Carnaroli soprattutto perché il giorno dopo la corsa delle bighe il pincio, dice Carnaroli che è stato sindaco di Fano per una decina d'anni era in uno stato desolante panchine e tavoli sopra le aiuole mezzi pesanti che operavano tra l'arco d'Augusto e il bastione Nuti come elefanti in un negozio di porcellane senza nulla togliere alla perizia dei tecnici che lavoravano in una situazione oggettivamente difficile e a denunciarlo è l'ex sindaco di Fano appunto Cesare Carnaroli che pur riconoscendo nella Fano dei Cesari la più importante manifestazione di accoglienza di Fano suggerisce il suo trasferimento fuori dal centro storico per esempio su Viale Gramsci dove si fa il carnevale oppure Viale 12 Settembre un percorso già collaudato con la sfilata dei carri sicuramente il pincio tra pochi giorni tornerà a risplendere come prima della Fano dei Cesari ma credo che sia utile da parte dell'amministrazione riflettere se sia giusto o meno l'utilizzo del centro storico e dei monumenti ai cittadini per lo svolgimento di certe manifestazioni beh qui arriva la sabbia insomma a vedere tutti quei mezzi che si muovono a destra e a sinistra eccetera insomma pare soprattutto adesso che è stato sistemato che è stato rimesso a posto ripulito il pincio che è veramente molto molto bello pare venga fatta violenza insomma con tutti questi mezzi sopra eccetera però non è del tutto sbagliata la riflessione di Cesare Carnaroli non è assolutamente sbagliata bisognerà pensarci se c'è un'alternativa e un'alternativa c'è di sicuro poi i pacassoni pacassoni storicamente lo sappiamo tutti almeno i fanesi lo sanno bene sono i padri del carnevale soprattutto dell'ultimo secolo i pescherecci come maschere di carnevale è la proposta di pacassoni che però a quanto pare non piace all'assessore perché pacassoni ha questo progetto che ha già presentato l'anno scorso un progetto soprattutto che riguarda il carnevale d'estate e che prevede tra le altre cose la trasformazione di alcuni pescherecci in maschere della commedia maschere della commedia dell'arte per farne uno strumento di promozione di Fano e del suo carnevale lungo la costa adriatica praticamente da Ancona a Rimini quindi immagino come vedete dal bozzetto che pubblica il giornale questa mattina trasformare questi pescherecci in sorte di carri allegorici galleggianti che poi facendoli andare tra Ancona e Rimini in mare potrebbero appunto fare da promozione turistica da promozione al carnevale dal Corriere Adriatico di Fano questa mattina ancora la lezione di 350 bambini mattinata di lavoro per i ragazzi del centro estivo jump insieme agli educatori hanno ripulito 20 aree verdi della città e differenziato i 70 sacchi di rifiuti raccolti ruba un'auto ad un turista e chiede il riscatto ma è arrestato per tentata estorsione è accaduto nella zona del mare a Pesaro l'uomo di origini senegalesi è finito nei guai anche per spaccio l'Inps ieri solo su prenotazione però in tanti si sono presentati lo stesso l'abbiamo letta qualche settimana fa questa notizia l'Inps ha cambiato un po' le regole per accedere agli uffici non ci si potrà più presentare così spontaneamente bisognerà prendere appuntamento attraverso il sito internet oppure scaricando un'applicazione sul cellulare oppure chiamando con il consente e di persona però solo su appuntamento qualche anziano era preoccupato chiaramente ma quando abbiamo spiegato dice Massimo Testa qual era l'iter da compiere siamo riusciti a risolvere tutti i dubbi e anche il direttore si è messo allo sportello nel primo giorno di accesso con prenotazione anche il direttore dell'Inps Massimo Testa si è messo a disposizione è sceso in campo per gestire il flusso e rispondere alle domande delle persone che sono andate appunto in sede divieto allargato tutta la spiaggia qui si parla, sono due le pagine sul resto del canale di questa mattina sul divieto di fumo nelle spiagge di Pesaro c'è chi chiede come il consigliere Briglia per esempio del Partito Democratico di allargare a tutta la spiaggia pesarese il divieto la legge però poi aggiunge deve essere nazionale e soprattutto unica e per tutti adesso come dire la fuga in avanti del sindaco di Pesaro Matteo Ricci chiaramente serve e fa da apripista per esempio Matteo Ricci dice d'accordo, il nostro è il primo passo la copertura legale c'è e quindi si possono fare le multe non c'è il rischio che poi si facciano ricorsi che vadano male per il comune però è contrario invece il sindaco di Senigallia Mangialardi che dice queste sono soltanto chiacchiere al vento Mangialardi è del Partito Democratico si intende di mare e di spiaggia lui dice io sono un accanito non fumatore quindi solo l'odore dice Mangialardi mi dà fastidio da lontano non le dico la rabbia di quando sono seduto all'aperto in un ristorante e qualcuno mi fuma vicino allora perché è contrario dice alle ordinanze che vietano il fumo sulla spiaggia ma sono tutte iniziative velletarie dice lui non efficaci anzi non previste dalle norme italiane un ricorso qualunque lo annullerebbe dice Mangialardi pica e qui parliamo di lavoro il Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso la Cassa Integrazione dunque per Regione Comune l'obiettivo è far restare il marchio nel territorio di Pesaro dunque c'è un sospiro di sollievo per tutti i lavoratori della PICA sono 52 lavoratori che sono a Pesaro e che dal 1 giugno 2019 al 31 maggio 2020 avranno l'integrazione salariale e quindi la Cassa Integrazione ecco qua il tutor il tutor che controllerà se tutto andrà come previsto il tratto di statale adriatica 16 soprattutto tra Fano e Pesaro e servirà per controllare coloro che il giornale li chiama furbetti ma in realtà è un po' come quelli della differenziata tanto furbetti non sono andrebbero chiamati stupidotti in questo caso del tachimetro nel senso coloro che accelerano vanno velocemente in tratti di strada dove in realtà bisognerebbe andare piano perché il rischio di fare incidenti di farsi male e di fare male è molto elevato la proposta del super autovelox è emersa nella riunione in prefettura Pesaro e servirà per dare un giro di vite durante l'estate e poi c'è questa la fotografia di Biancani con l'ingegner Paccapelo che mostra la pista ciclabile dove un tempo viaggiava il treno Fano Urbino tutti i sindaci della Valle uniti nel progetto Urbino invece si riserva di pensarci ancora un pochettino i binari rimangono solo nelle gallerie e nei ponti la pista verrà messa praticamente sopra anche perché è difficile poter pensare di far passare dei ciclisti dentro una galleria la strada in cemento correrà accanto al sedime della ferrovia quindi non andrà sopra non lo andrà a coprire ma verrà affiancato a quello che un tempo dove un tempo c'erano i binari della ferrovia e dal Corriere Adriatico invece c'è lo spazio a chi invece si oppone all'avanzata di Biancani con questo progetto della bicicletta ha già il progetto per la ciclovia Fabri si appella ai sindaci di Urbino Fossombrone della Valata del Metauro per salvare la Fano Urbino sul bocciodomo di Fossombrone come il Pozzo di San Patrizio l'opposizione incalza il sindaco sull'opera che da 340 mila euro ne costerà 620 Bonci, il sindaco di Fossombrone rassicura imminente la pubblicazione del bando per la gestione del bar dalla Valle del Cesano sindacati smentiscono il sindaco di Monteporzio Breccia poi gli tendono la mano e dicono siamo a disposizione sapete Monteporzio non sta passando dei bei momenti è in predissesto il comune quindi questione di soldi di conti pubblici che non tornano anche i dipendenti tenuti all'oscuro di quanto stava accadendo in comune CGL Cislewil dice sarebbe stato opportuno e utile la convocazione di incontri da parte sua e anche qui sul Corriere il dolore e la commozione nella piccola chiesa di Stacciola di San Costanzo centinaia di persone per l'ultimo saluto a Maurizio Olivieri e poi lo show vandalico che c'è stato nella notte scorsa a Nova Feltria era una notte di follia per due albanesi ubriachi uno addirittura è finito in carcere l'altro è stato denunciato e ancora una volta la collaborazione dei cittadini è stata fondamentale poco dopo la mezzanotte di domenica questi sono i fatti a Nova Feltria i residenti della centralissima piazza Roma hanno sentito un forte rumore uno schianto provenire dalla strada ovviamente si sono affacciati nel cuore della notte affacciati dalle finestre hanno visto una Fiat Punto guidata da uno che evidentemente era già ubriaco e che andava a sbattere contro un motorino che era regolarmente parcheggiato e poi altri mezzi in sosta insomma uno show di quelli da fuori di testa è arrivata la telefonata dei carabinieri sono arrivati hanno fatto l'etilometro eccetera eccetera hanno ritirato la patente alcolica però poi c'è stato un colpo di scena cioè quando tutto sembrava finito quando è arrivato il risultato dell'alcol test fatto all'autista al conducente della Panda a un certo punto il compagno il 27enne gli si è scatenato una rabbia incontrollata e ha iniziato a inveire contro i carabinieri con il fuese in minaccia e quindi alla fine questo 27enne è stato bloccato e arrestato andiamo velocemente dalla pagina di Senigallia muore a 82 anni gli rubano la fede appello del figlio voglio ritrovarla indagano i carabinieri al vaglio i filmati della spy cam della telecamera sospetti sui tossici che si aggirano all'obitorio di Senigallia e poi un'altra ambulanza prigioniera del traffico aveva solo lampeggianti accesi è rimasta incolonnata su Viale Bonopera dietro la lunga coda generata dal semaforo della penna e poi sempre da Senigallia aggredisce i carabinieri durante un controllo viaggiava nell'auto condotta da una donna positiva all'alcol test e vabbè spesa a scrocco di 4 giovani in vacanza razzia al centro commerciale di Senigallia arrestati al maestrale hanno rubato vestiti intimo cosmetici e alimentari moldavi portati in caserma e poi un incidente al mare dove un bimbo è stato portato all'ospedale brutto spavento domenica in spiaggia per un bambino di un anno che ha sbattuto la testa un colpo non molto violento ma in seguito al quale il piccolo ha iniziato a vomitare per poi addormentarsi e quando succede così chiaramente l'allarme è massimo va alle stelle e quindi giustamente è stato subito soccorso i bagnini non saranno sceriffi torniamo sul divieto di fumo appeso i controlli spetteranno ai vigili parla il capo dei vigili Galdenzi comandante della polizia locale chiarisce i compiti sul divieto di fumo in spiaggia poi cade schermo donna ferita a momenti di paura ieri sera in piazza del popolo al tributo di Michael Jackson e questa è la pagina di apertura con la quale abbiamo iniziato la nostra segna stampa che finisce qui alle 7.25 per chi ci segue in diretta naturalmente questo è il numero di telefono invece per le vostre segnalazioni grazie per averci seguito ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale occhio alla notizia arrivederci a presto a presto a presto a presto a presto a presto